È il primo caso a Verona città di un laboratorio unico in medicina di gruppo integrata, quello realizzato alla Casa di Salute Verona. Altri sono presenti in provincia e da domani si inizierà a realizzare i tamponi sui pazienti dei medici di base che hanno il proprio ambulatorio qui. Un mese fa si è cominciato a somministrare il vaccino anti-influenzale su 500 pazienti circa ogni giorno e ora si aggiungono i tamponi proprio per dare supporto agli ospedali. I medici di base dovranno comunque effettuare i tamponi rapidi per i loro assistiti. Questa struttura era stata organizzata per i vaccini anti-influenzali e la stiamo riadattando per fare i tamponi rapidi agli assistiti della Casa di Salute. Sono dieci medici di base tra i pediatri che hanno qui il loro ambulatorio per un servizio territoriale che riguarda 15.000 persone circa e la struttura mobile si trova proprio dietro l'edificio di via Bramante. Per accedere al servizio bisogna chiamare la segreteria che metterà in contatto con i medici. Allora l'accesso sarà su appuntamento, il medico di base farà il triage perché giustamente i tamponi rapidi vanno fatti con tempistiche precise e poi i pazienti verranno su appuntamento a effettuare il tampone. È soddisfatto anche il sindaco di un servizio come questo in città perché ora più che mai è necessario provvedere cercando tutte le risorse disponibili nello sfoltire le presenze negli ospedali. Questo nuovo servizio va nella direzione che abbiamo impostato già da qualche settimana di creare una stretta sinergia tra varie istituzioni pubbliche e private, nel caso specifico per avere sempre più luoghi dove è possibile andare a fare il vaccino antinfluenzale o il tampone. Quindi una sinergia, noi in questo caso abbiamo fornito i nostri tendoni della protezione civile, una sinergia che permetta di individuare i proposti perché se fossero di meno, se fossero pochi evidentemente ci sarebbero troppe persone che vanno per farsi un vaccino, per farsi un tampone ma si creerebbero degli affollamenti. Proprio ieri Sboarina i sindaci dei comuni di Verona si sono confrontati, come fanno periodicamente, per conoscere le esigenze e intervenire con le direttive in modo uniforme, sempre a seconda delle caratteristiche del territorio. Sì, con i sindaci noi ci incontriamo settimanalmente, a volte anche più di qualche settimana, ieri è stato fatto un appello che abbiamo un po' postato tutti sui nostri canali social, proprio per fare un invito ai cittadini che abbiamo visto in questo fine settimana è stato sicuramente anche raccolto, ad avere un'attenzione massima, una responsabilità massima e devo dire il fatto di non aver visto affollamenti nelle piazze, nei centri o dove invece si erano visti le scorse fine settimana, al di là dei provvedimenti, al di là dell'ordinanza regionale, al di là dei controlli, significa che questo appello, questo invito a prestare la massima attenzione è stato raccolto da tantissimi cittadini.